aperto nel 1816 è una delle più importanti istituzioni botaniche del mondo ma prima dell'insediamento degli europei era un luogo di iniziazione quest'oasi urbana di circa 30 ettari è il luogo ideale per un picnic è aperto al pubblico tutti i giorni e l'ingresso è gratuito all'interno del parco si può trovare una grande varietà di vegetazione ornamentale stagni per le anatre ampie distese erbose e ai vuole di fiori dal mio punto di vista le parti da non perdere sono il giardino delle rose il palmetto e la spring walk molto consigliato è il tour gratuito che inizia alle 10 e 30 dal palm grove center e che dura circa un'ora e mezza che vi permetterà di esplorare le parti principali del parco inizia 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 10 sempre con 650 f Ramsay mi Grazie a tutti Grazie per aver guardato il video Non dimenticare di lasciare un pollice in su Di condividere il video E di iscriverti al canale Se vuoi guardare altri miei video Clicca sulle anteprime Oppure vai in descrizione Dove trovi tutti i link per seguirmi sui social Ciao